Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo, quali prospettive per il futuro, che ha visto l'interessante confronto dei esperti del settore. La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi condotta da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, con la partecipazione esclusiva dell'attore e presentatore Germano Lanzoni. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata all'evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni. Eccellenza dell'anno Insurance Protection. Anche qui. Andiamo a vedere subito, a sentire subito il nome del vincitore che è MetLife Italia. Per essere una realtà multinazionale in costante crescita anche in Italia, eccellenza nel settore insurance con soluzioni innovative e pensate sempre su misura per la protezione della persona, per la capacità attraverso numerose partnership e un approccio multicanale da imporsi nel mercato come autentico leader. Grazie e complimenti. Siamo in compagnia del dottor Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Dottor Taglietti, lei si è giudicato il Le Fonti Awards 2019 come eccellenza dell'anno Insurance Protection. Come commenta questo riconoscimento? Beh, innanzitutto sono contento. È un premio che è sicuramente prestigioso. È un premio che innanzitutto condivido con il team di MetLife. Abbiamo una squadra di colleghi estremamente capace, entusiasta, che lavora duramente tutto l'anno per eccellere nell'ambito della protection. e il fatto di esserci giudicati il premio per l'eccellenza nella protection è il riscontro e voglio dire è la gratificazione migliore per tutti noi. Quindi devo dire che è un qualche cosa che è un completamento, se vogliamo, di un percorso che abbiamo iniziato da parecchio tempo. Il vostro è un approccio multicanale e caratterizzato da partnership strategiche. Su quali progetti in particolare state lavorando in questo momento? Beh, innanzitutto vogliamo continuare a rafforzare la nostra eccellenza che è appunto la multicanalità. Noi siamo leader in questo mercato e vogliamo continuare a essere leader. E per poter essere leader dobbiamo continuare a stare un passo avanti alla concorrenza. Quindi stiamo investendo in tutti i tre canali e in particolare, visto che è anche un tema della serata che è stato dibattuto, nell'ambito della digitalizzazione e in quello che è lo sviluppo delle nostre piattaforme e-payment, delle nostre piattaforme e-commerce. Nello stesso tempo stiamo rafforzando la nostra offerta e prossimamente, appunto nelle settimane che verranno, rinnoveremo in modo importante la nostra offerta in fortuna e quindi uno degli ambiti della personal protection su tutti i canali nei quali siamo presenti. Ecco, il mercato assicurativo sta affrontando nuove sfide in questi anni, dall'IDD all'impatto delle nuove tecnologie. Voi come intendete affrontare queste sfide? Beh, guardi, noi siamo una compagnia di nicchia focalizzati appunto nella protezione personale, quindi nella protezione di coloro che dovrebbero essere le cose più importanti per ciascuno di noi, quindi noi stessi, le nostre famiglie, i nostri cari, le persone importanti nell'ambito professionale e cerchiamo nella nostra nicchia di eccellere portando dei prodotti di valore per chi li distribuisce e per il cliente che li acquista attraverso la multicanalità affinché il cliente possa usufruirne nelle diverse modalità possibili laddove lui lo ritiene più comodo, più confacente le sue necessità. Noi vogliamo continuare a eccellere in questo, quindi le nostre risposte sarà nella traccia della nostra specializzazione, noi siamo the best in class, come ci piace dire, e vorremmo continuare a essere the best in class perché vogliamo continuare a posizionarsi come la compagnia della personal protection, a essere riconosciuti nel mercato come la compagnia migliore nella personal protection.